Non dobbiamo temere le nostre miserie, tutti siamo peccatori ma tutti abbiamo la possibilità di ricevere il perdono, di essere salvati dalla misericordia di Dio. Con questa riflessione Papa Francesco ha salutato i pellegrini presenti in piazza San Pietro per l'udienza generale. Dopo aver riflettuto sulla misericordia del Signore nell'Antico Testamento, il Pontefice ha iniziato a meditare su come Gesù l'abbia portata al suo pieno compimento. Egli infatti non si è presentato al mondo nello splendore del Tempio, non si è fatto annunciare da squilli di trombe ma si è fatto carico della condizione umana, mosso dalla solidarietà e dalla compassione. La missione del Figlio di Dio dal battesimo al fiume Giordano, mettendosi in fila con i peccatori fino alla croce, è stata inaugurare il tempo della misericordia per tutta l'umanità, incarnare l'amore del Padre che raggiunge tutti in ogni tempo. Nulla e nessuno rimane escluso di questa preghiera sacrificale di Gesù. Ciò significa che non dobbiamo temere di riconoscersi e confessarci peccatori. Ma quante volte noi diciamo ma questo è un pecatore, questo ho fatto quello, quello, e giudichiamo le altre. E tu? Ognuno di noi dovrebbe domandarsi, sì, quello è un pecatore. E io? Tutti siamo peccatori, ma tutti siamo perdonati. Tutti abbiamo la possibilità di ricevere questo perdono che è la misericordia di Dio.